Ok, la registrazione è partita. Salvatore, tu la vedi la registrazione? Sì, 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 è partita. Partiamo con il disclaimer. Tutte le informazioni, i video, i webinar e gli altri servizi offerti da TICMIL hanno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi, di conseguenza gli autori dei corsi e lezioni non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e degli iscritti e di clina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Questo webinar è offerto e sponsorizzato dal broker ICN STP TICMIL con regolamentazione FCA UK, quindi una regolamentazione molto solida, i conti sono segregati e separati dalla società, sono permesse tutte le strategie, quindi inclusi gli expert advisor e tecniche di scalping, sono stati implementati alcuni servizi per i trader come il servizio di AutoChartist e la demo illimitata e la protezione del saldo negativo. Come condizioni di trading TICMIL ha gli sped più bassi del settore a partire da zero, incluse le commissioni dove parliamo di 2 dollari per 100.000 dollari tradati. e non ci sono re-quote e c'è la possibilità di avere anche slippage positivi. TICMIL nel 2016 ha registrato questi dati che sono sempre in continua crescita come volume di trading 434 miliardi e con 30 milioni di operazioni eseguite ogni mese e 17 mila nuovi clienti. Ci sono tre tipologie di conti, quello più usato è performante è l'Asian Pro dove il deposito minimo richiesto di 25 dollari e la leva massima fino a 1,500. Tutte le informazioni comunque necessarie su TICMIL si trovano sul sito dove attualmente c'è la promozione di un conto di buon venuto dove potete provare le qualità di TICMIL aprendo un conto senza nessun vincolo, quindi nemmeno nessun deposito richiesto e vi daranno 30 dollari dove potete comunque provare le condizioni di trading in tempo reale su un conto ovviamente reale. Allora abbiamo parlato del broker, Salvatore se tu sei d'accordo direi di far vedere già dove possono scaricare l'expert in modo tale che acceleriamo le procedure. Allora potete andare a scaricare l'expert sul blog di Working Forex, vi giro adesso il link in chat. Se funziona la chat, ok. Sì, arrivo. Ok, e da qui potete scaricare l'expert che appunto è disponibile su questo indirizzo, poi cliccate sul link e adesso è stato cancellato, non so Salvatore perché non è disponibile il link. Ma sta facendo un altro credito, non vi preoccupate, poi l'unica cosa precisa che è l'expert del metodo stop and loss, non è quell'altro. Sì, infatti qui l'altro gain runner metodo copertura, quello non è disponibile, che poi magari ne parleremo in altra sede. Comunque per avere l'expert che viene comunque fornito in modo del tutto gratuito, basta aprire sempre da questo blog un conto con TIC1000, cliccando sulla procedura qui, ti basta cliccare qui, oppure inserendo il codice che vedete qui sullo schermo. Quindi fatta poi la procedura e fatto il primo deposito minimo di 25 euro, basta poi mandare una mail a Salvatore a workingforex e lui poi vi manda gli indicatori e quindi l'expert. Sul blog c'è scritto anche come scaricare l'expert, come installarlo direttamente, c'è anche un video, come installare un expert advisor e come farlo girare sulla MT4, perché magari qualcuno non ha ancora di mistichezza con gli expert advisor e quindi c'è anche questa breve guida con un video dove potete andare a scaricare l'expert. Quindi passiamo proprio all'expert in sé. Mi possono contattare su via via mail, sono ben lieto di fornire tutta l'assistenza necessaria. Assolutamente, poi verso la fine diamo tutti i riferimenti. Allora, che cos'è il Gain Runner Stop & Take? È un expert advisor che è stato concepito per intercettare i movimenti direzionali e più volatili che avvengono con una certa regolarità durante l'apertura di Londra e New York. La leva consigliata per lavorare con questo tipo di expert è una leva di massimo 10, quindi se avete un conto da 10.000 dollari dovete, se utilizzate appunto una leva 10, aprire posizioni di massimo 1 lotto. Su quali strumenti bisogna lavorare con il Gain Runner? Non ovviamente su tutti gli strumenti, perché ci sono, ogni strumento ha le proprie caratteristiche di volatilità e di costi di transazione, quindi bisogna andare a cercare quegli strumenti che fanno al caso nostro e che abbiano dei costi di transazione bassi. Quali sono questi strumenti? Essenzialmente noi ne abbiamo indicati tre. Io personalmente ne preferisco soltanto uno, che è l'euro-dollaro. Comunque, per chi poi avrà il piacere di lavorare con il Gain Runner, noi consigliamo di lavorare, tu correggimi sempre Salvatore se dico qualcosa di non corretto, potete lavorare su euro-dollaro, il GPP, USD e il DAX. Perché questi tre strumenti? Perché statisticamente sono gli strumenti che si muovono con una volatilità degna di nota durante le fasi di apertura di Londra e New York. Questa non è una cosa che dico io o Salvatore, ma sono le statistiche che sono disponibili su diversi siti. Io utilizzo quella di MyFXBook, dove potete andare a cercarvele direttamente voi queste informazioni sul sito di MyFXBook.com, dove nella sezione Market ci sono diverse informazioni sulla volatilità, sulle correlazioni e sulla liquidità di giornaliera. Intanto un occhio alla liquidità di oggi ci ce l'ha butto, perché dopo i non-pand-per-alls vediamo che è una liquidità molto bassa, quindi vediamo come vedete questo incremento di volatilità sui dati, quindi adesso è molto bassa, quindi non è una situazione ottimale per far lavorare l'expert. Però ci programma lo stesso, come abbiamo fatto ieri, quindi vediamo se riusciamo comunque a fare qualche operazione di trading. Quindi, dicevo, queste informazioni sono disponibili per tutte e gratuitamente sul sito di MyFXBook. Da qui quindi abbiamo ricavato questi dati sulla volatilità e sulla volatilità, e su Euro-Dollaro potete vedere come la fascia delle 9, 12 e 15, 18, ve la vado a evidenziare, sono le fasce dove c'è più movimento sull'Euro-Dollaro. Quindi non ha senso far lavorare questo tipo di expert su fasce orarie che non hanno volatilità. Le fasce orarie, quindi le altre fasce orarie escluse, sono quelle ovviamente notturne, quindi no, e poi progressivamente verso la fine, perché si ha un calo comunque sostanzialmente della liquidità e i broker vanno a diminuire comunque l'offerta spread. Quindi poi bisogna, una volta tenuto conto di queste considerazioni, vi faccio vedere anche un attimo il cable e il DAX. Non so perché non va, un attimo. Qui è il cable, vediamo la stessa cosa, quindi fascia delle 9, 12 e 15, 18 cercate in rosso, sono quelle più volate. Il cable è più volatile rispetto all'Euro-Dollaro, ha però dei posti di transazione un po' più alti rispetto appunto alla valuta principale. E poi c'è il DAX, dove non ha sezione notturna e anche il DAX si muove bene soprattutto durante la fase di Londra, dalle 9 alle 12, meno verso le 15-18, però comunque rimane un valido strumento soprattutto nella fase di Londra. Allora, per lavorare con questo expert c'è bisogno di due indicatori in particolare, l'ATR e il TS RSI trend. Questi due indicatori, uno di questi è di default presente sulla MT4, parlo dell'ATR, ve lo spiego brevemente, andando ad aprire la piattaforma, dove io ho già installato l'expert. Un attimo verifico, visto che comunque è un conto reale, verifico un attimo che le impostazioni siano corrette, altrimenti vorrei che mi partisse in automatico. Ok. Forse c'è il filtro rarico, Giuseppe. Sì, sì, no, ma non lo voglio far partire, mi chiedo un attimo se era in run. Allora, che cos'è l'ATR? L'ATR va a sostanzialmente misurare la volatilità. Vedete come adesso esplosa questa volatilità sul grafico a minuto, perché ovviamente sono stati rilasciati i non-farm payrolls e quindi la volatilità è esplosa proprio durante la notizia. Attualmente è in una fase di ampia lateralità. Queste situazioni, come abbiamo visto prima, analizzando la statistica sulla liquidità, non è proprio ottimale. Quindi andremo a cercare un attimo di capire se ci sono le condizioni di mercato ed eventualmente capiremo come agire su questo strumento, magari abbassando la leva. Quindi l'ATR va a misurare la volatilità e questo expert ne va a includere proprio questo indicatore per fare appunto delle analisi che poi vedremo più tardi. L'altro indicatore è il TS-RSI trend, è un indicatore proprietario che ha costruito Salvatore, ha programmato Salvatore, che simula, che sostanzialmente, correggimi se sbaglio, fa più o meno le stesse cose dell'RSI, però dà delle informazioni aggiuntive come magari il trend in atto o altre cose che poi vedremo. Quindi questi indicatori servono per poter far lavorare con questo, far lavorare questo expert e devono essere inclusi soprattutto il TS-RSI trend incluso nella piattaforma per poterlo far lavorare. Quindi quando andate a scaricare sul link che vi ho girato prima sul blog troverete sia l'expert che il TS-RSI trend. Il TS-RSI trend va nella cartella indicatori e l'expert advisor gaming runner va nella cartella expert. Comunque poi c'è il video dove potete trovare tutte le informazioni necessarie. Andiamo a vedere la logica di entrata. Come ragiona l'expert? L'expert in sostanza va a piazzare una buy quando raggiunge un valore di 70 sul RSI. Quindi come vedete da questa immagine, ve la vado a evidenziare. L'indicatore su questa chiusura di barra è andato oltre il livello di 70. L'expert che cosa fa? Va a piazzare un buy stop sul massimo di questa barra e poi sostanzialmente gestisce la posizione a seconda del metodo di gestione che abbiamo utilizzato. Quindi in pratica lo utilizziamo al contrario rispetto all'uso canonico che se ne fa dei vari oscillatori perché di solito quando l'oscillatore va in ipercomprato per molti è una situazione di vendita del mercato. Quindi ci si aspetta, almeno chi lavora in modo contrario, un posizionamento contrario alla forza indicata dall'oscillatore. Stessa cosa nell'esempio short, quando l'oscillatore va in zona trend, come in questo caso, va a piazzare un sell stop sotto il minimo della barra. Ovviamente l'expert... Sì, dimmi Salvatore se volete aggiungere qualcosa. No, magari visto che ti trovi adesso a parlare delle logiche di entrata, puoi introdurre adesso il concetto del trend, cioè nel senso che quando parte poi la tendenza noi eseguiamo per un massimo... Ecco questo discorso qui. Sì, questo qui. Perché ovviamente noi dobbiamo tener conto che l'RSI, soprattutto sui brevi periodi, magari chi utilizza il periodo 2 o 3, vedete qui indicato... Aspettate che ve lo segnalo, ve lo vignenzo, qui viene indicato il periodo dell'RSI. Quindi se mettete un valore 3, significa che state analizzando le ultime 3 candele, no? Quindi, che cosa può succedere? Che l'oscillatore ovviamente va quasi sempre in ipercomprato e oscilla in modo randomico tra le due bande, no? 70 e 30. Quindi per evitare magari di farlo lavorare troppo nelle fasi laterali, perché anche nelle fasi laterali ovviamente può andare sui valori di 70 e 30, abbiamo stabilito che ci deve essere una regola. quindi come primo segnale, quindi andiamo sostanzialmente a dire all'expert tradami il primo segnale, quindi il primo segnale che va sopra 70 per noi quello è buono. Poi gli diamo un'altra... Tu, Salvatore, sempre correggimi se dico cose non correghe. Dopo il primo segnale che è scattato, aspettiamo un'altra chiusura di barra sopra quel livello di 70 per entrare al mercato. Quindi sostanzialmente su ogni intersecazione del livello di 70 noi gli diamo due possibilità sostanzialmente. Poi, quando... se l'expert ritorna, come in questo caso, giù, senza dare in... dalla parte opposta, quindi di 70, quindi senza essersi scaricato completamente, noi non entriamo in queste situazioni, perché queste situazioni potrebbero essere soltanto appunto delle oscillazioni randomiche e quindi se il prezzo non è partito già sul primo segnale, è inutile andare a cercare magari altri segnali perché molto probabilmente poi l'expert, l'oscillatore, si va a scaricare. Quindi... Potrebbero essere delle false rotture o comunque ormai tardi per entrare. Tutto, come vedete in questo caso, il primo segnale c'è stato qui, ma sostanzialmente poi l'expert non è che si sia mosso il prezzo, non è che si sia mosso di molto, quindi è rimasto su questo range di prezzo e queste situazioni sono comunque critiche perché vanno soltanto a caricare i costi di training e magari vi vanno ad aumentare l'esposizione senza darvi magari la... Nessun beneficio. Esatto. Quindi andiamo poi a beccare il secondo segnale che deve avvenire quando si è completamente scaricato l'oscillatore. Ragazzi, datemi un feedback perché se è chiara questa logica... Io nel frattempo bevo un goccio d'acqua... Ok... Direi di sì, possiamo procedere. Sì, aspetta che... Io direi adesso che... andiamo a spiegare direttamente l'expert come abbiamo fatto in sostanza ieri. Ah, partendo dalle variabili, stai. Sì, partiamo... facciamo in questo modo. Poi ragazzi, io comunque... le slide sono disponibili per tutte quindi non c'è problema. Allora, ve lo spieghiamo. Io intanto lo vado a settare in modo tale che vediamo se c'è qualche opportunità di training. Allora, la massima... Queste due cose... Salvatore direi di lasciarle stare, no? Tanto lasciate sempre su True ID e EA e mostra i dettagli e lasciatelo comunque su quelli di default che sono Zero e True. La massima esposizione netta che cos'è? Qui vedete che c'è scritto Zero e Trenta. Allora, la massima esposizione netta significa che l'expert aprirà sul conto delle operazioni fino a un massimo di Zero e Trenta. Quindi Zero e Trenta corrispondono a tre... come se aveste tre mini lotti sul conto. Per chi non è a pezzo sulle varie sites del Forex allora, 001 è un micro lotto che corrisponde a 1000 dollari Zero e dieci è un mini lotto che corrisponde a 10.000 e un lotto è ovviamente un lotto che corrisponde a 100.000. Quindi voi come un'esposizione di Zero e Trenta gli state dicendo all'expert di aprire operazioni fino in leva fino a 30.000 dollari. Se avete un conto come me di 5.000 euro per sapere la leva a quanto state viaggiando vi basta fare questo 30.000 quindi ricavato da Zero e Trenta diviso 5.000 e quindi avrete una leva sostanziale di una leva 6 quindi se fosse invece se fosse con un conto da 10.000 sarebbero comunque a leva 3 3 sta a leva 3 quindi tenete conto di questa cosa molto importante quando andate a tradare sul ma questo al di là dell'expert funziona con cioè in questi casi dovete sempre tener conto della della vostra esposizione perché potete avere anche una leva a 500 sul conto però poi siete voi a decidere che tipo di level usare sul sul conto appunto modellando a vostro piacimento queste le sites quindi la massima esposizione netta va a a braccetto con la max order perché la max order è il numero massimo di operazioni che devono essere aperte quindi in questo caso abbiamo messo 6 e l'expert dovrà aprire massimo 6 operazioni quindi 6 operazioni in in totale giusto Salvatore non perché prima era 6 in long e 6 in short esatto adesso abbiamo fatto 6 operazioni come totale sia suddivise tra buy e sell quindi posso trovarmi 3 buy e 3 sell 4 buy e 2 sell in totale massimo massimi ordini da aprire in questo caso sono 6 rispettando sempre la massima esposizione netta perché tendenzialmente se io apro in continuazione ipotizziamo per assurdo una buy e una sell alternate la mia massima esposizione è sempre 0 perché apro una buy da 0,1 poi la galleggio con una sell da 0,1 è sempre 0 ne aprirebbe infinite con questo parametro max order andiamo a mettere un limite un blocco operativo deve aprire massimo 6 ordini non di più rispettando sempre la massima esposizione netta vedete io adesso ho messo 0,15 perché comunque sono le 5 di venerdì ci avviciniamo alla chiusura del weekend e poi ci sono comunque le lezioni francesi di mezzo quindi non mi voglio esporre troppo adesso la metto 0,15 e quindi ho un'esposizione massima di 15.000 dollari su questo conto e quindi ho modellato nuovamente la leva e l'ho appassata notevolmente quindi sono a leva 3 quindi in questi casi sul conto avrò sia guadagni più bassi ma anche perdite poi credo che la max order quindi sia anche chiara passiamo alle barre segnale attivo qui vedete 2 adesso ve lo spiego sul grafico io ho messo 2 perché che cos'è il segnale attivo chi c'era ieri nel webinar avrà notato andiamo a vederla perché dovrebbe essere memorizzata che noi ieri abbiamo operato in questa situazione allora adesso il TSRS i trend non ha le statistiche complete quindi qui non lo vedete in bianco perché giusto Salvatore non ci sono tutti i dati lo spiego perché si lo spiego perché innanzitutto non abbiamo dimenticato di dire che questo expert diciamo come l'abbiamo concepito deve ci stare su un time frame a un minuto che cosa succede che caricando lo storico dell'indicatore appesantisce di non poco la piattaforma e allora non ha senso vedere l'RSI 20 giorni fa se lavoro su un time frame a un minuto questo è per diciamo per chiarire però volendo se uno lo vuole vedere lo può vedere nello storico basta che aumento il numero di barre diciamo ok adesso per non caricarlo non lo lascio però è inutile e caricarlo troppo ma adesso voglio vedere un esempio di ieri l'esempio di ieri io adesso metto la uso un RSI normale perché sì sì è uguale allora nell'esempio di ieri barra e segnale attivo io ho due che cosa è successo ieri doveva entrare questa short sotto questo minimo e quindi l'expert doveva andare a piazzare una sell stop in quest'area non l'ha fatto perché quando è arrivato l'ordine di sell il segnale è scaduto perché sono passate più di due barre dopo la dopo la segnalazione appunto del dopo il setup operativo quindi in quel caso io comunque utilizzo sempre due dopo due barre il segnale scade quindi non mi va a mettere un ulteriore sell un'altra cosa che ci siamo dimenticati di dire l'expert non piazza dei pendenti ma degli ordini una linea quindi il broker non vede che ci sono gli ordini sulla piattaforma quando poi la linea viene toccata dal bid perché tenete conto che voi vedete sempre i grafici bid sulla MT4 quando viene toccato il prezzo entra l'expert a mercato in questo caso noi abbiamo evitato una falsa rottura proprio perché quando ci sono le inside soprattutto sul grafico un minuto molto spesso si hanno queste false rotture magari va a rompere da una parte quindi il minimo e poi come in questo caso riparte dalla parte opposta quindi per evitare queste situazioni abbiamo detto ok expert tu mi devi entrare sul livello di 30 però o lo fai subito o magari io ti do un'altra due barre per entrare al mercato però poi l'ordine me lo devi cancellare anche perché siccome questo expert soprattutto sul periodo 2 fa su e giù ci sono tante opportunità per entrare al mercato e quindi in questo modo noi evitiamo di andare a sovraccaricare l'expert quindi è diciamo un trucco per evitare di entrare 10.000 volte sul stesso setup operativo e quindi evitiamo in questo modo anche di lavorare con le situazioni di lateralità questa cosa ieri ha pagato proprio perché abbiamo evitato tutte le sell e abbiamo cavalcato solo le long che sono poi state chiuse a profitto vedremo se oggi saremo altrettanto fortunati però passiamo avanti con le altre variabili così facciamo partire l'indicatore allora 0.15 quindi poi indicators set indicators lasciamo così insieme all'RSI l'RSI period è due quindi qui potete scegliere se volete lavorare con un RSI a 10 periodi potete farlo io non ne trovo il vantaggio però comunque c'è chi magari vuole avere un RSI più diciamo lineare perché se mettete un RSI mettete un RSI mettete un RSI a 10 periodi guardate sostanzialmente non ci arriva quasi non va mai a toccare le 70 e 30 quindi per questo viene usato diverso esatto non è stato concepito per questo utilizzo diciamo esatto esatto quindi l'RSA con grossi con periodi lunghi non ha molto senso farlo lavorare magari c'è chi lo usa l'RSI sui periodi lunghi per appunto per andare a trovare delle aree di ipercomprato e ipervenduto poi sono altri tipi di operatività quindi consiglio di lavorare con un periodo massimo di 2 massimo di 3 scusate non di 2 io lo utilizzo su un periodo di 2 che cos'è poi passiamo all'altro il margin break il margin break ve lo spiego anche questo sul grafico come avete visto è settato a 0.2 quindi significa che se c'è un setup operativo vediamo un po' ad esempio se fossimo entrati in questa situazione vedete qui alle 16.43 l'ordine deve l'expert deve piazzare un ordine sopra questo massimo ma non lo fa a ridosso del massimo stesso che vedete essere a 1.09 e 72.2 ma un margine che decidiamo noi in base appunto a quello che abbiamo inserito io nelle variabili ho inserito 1.09 ho inserito scusate 0.2 quindi corrisponde a 1.09 7.2 4 quindi entra più o meno qui quindi diamo una tolleranza proprio per evitare delle false rotture perché magari soprattutto con dei broker che hanno una forchetta spread molto ampia e qui introduco il concetto della forchetta spread perché è comunque qualcosa di importante vedete adesso qui euro dollar a fianco in questa zona dove qui questa parte evidenziata è 1 quindi significa che lo spread quindi la forchetta tra bid e ask è di 1 quindi è molto bassa vedete infatti che questa linea bianca adesso la vedete questa linea bianca e rossa adesso è impercettibile ma a volte e soprattutto con dei broker che hanno uno spread più largo è molto più ampia e quindi questa soprattutto sui grafici a un minuto non è una una buona cosa perché vi va a inficiare potrebbe inficiare delle operazioni di training quindi ad esempio se lo utilizzate su un grafico che ne so mettiamo uno con uno spread ampio ieri quello abbiamo usato GPB se lo mettiamo su fammi salvare no però se salvo il formato può partire l'expert giusto per farvi capire di cosa sto parlando allora proprietà mostra linea togli magari la griglia ok vedete questa la evidenzio questa linea bianca orizzontale e rossa la linea bianca è il bid e quella rossa è l'ask quindi siccome voi venite fondamentalmente quella linea rossa è lo spread che rappresenta la differenza tra la linea bianca e la rossa e lo spread e questo spread si paga in due occasioni o quando facciamo l'acquisto quindi una buy paghiamo subito lo spread oppure quando dobbiamo chiudere una sell e quindi in quel caso paghiamo lo spread questo è molto importante perché dove andiamo a posizionare gli stop loss a volte magari il prezzo voi vedete che non ha toccato il prezzo dello stop loss ma siete usciti comunque perché lo stop loss della sell va a vedere il prezzo ask cioè quella linea rossa e magari il bid non l'ha toccato ma la forchetta quella differenza è andata a toccare il vostro prezzo e uscite per stop loss facciamo un esempio così che vale in più di mille parole se io avessi uno stop loss qui sopra vedete che la linea bianca ancora non l'ha raggiunto però magari se io ho uno spread ampio e io ho uno stop loss qui sopra quindi quando vedete quella linea rossa tratteggiata con lo stop loss se vi arriva se l'ask quindi arriva a toccare questa linea rossa tratteggiata che adesso è evidenziata in giallo vi fa uscire nonostante poi voi non vedete il prezzo perché ovviamente il broker ma non solo TicMill ma tutti i broker vanno a rilasciare le quotazioni in bid quindi molte volte soprattutto anche io sul forum leggo mi è stato preso l'ordine ma il prezzo non ci è mai arrivato perché ovviamente lo si va a vedere solo sul grafico però se c'è stato un aumento di spread quindi che ne so soprattutto sulle news c'è stato una forchetta spread molto ampia vi prende lo stop e voi non capite nemmeno il perché quindi questa cosa dovete fare molta attenzione e quindi lavorare soprattutto se lavorate in scalping e lavorate su su strumenti altamente volatili di andare sempre a guardare la forchetta spread e soprattutto deve essere come è su euro dollaro io per questo lo preferisco quasi sempre sulla stessa linea quindi euro dollaro a differenza ad esempio di ho letto appunto prima mi sono fermato su gpb usd su gpb usd vedete che comunque la forchetta spread è più ampia quindi qui dovete poi andare sempre ad aumentare i vostri costi non vi potete mettere un margine di 0,2 perché il margine di 0,2 è troppo basso su gpb usd quindi dovete lavorare magari con non so un margine di un pip e quindi poi i costi iniziano a diventare un po' più più alti quindi sempre andare a cercare di lavorare su strumenti che che siano poco costosi e il principe è comunque euro dollaro quindi abbiamo spiegato anche questo fattore molto importante quindi continuiamo con la spiegazione allora sono le 17.06 vediamo se lo faccio partire perché se no dopo è troppo tardi allora passiamo a come attivarlo vedete è diviso in due sessioni prima sessione e seconda sessione la prima sessione siccome è scaduta già e questa vale per Londra la metto su false adesso voglio farla lavorare sulla seconda sessione quindi metto true vado a indicare come ora di inizio le 17 diciamo 17.10 17.10 e ora nella fine facciamo le 21 però spero di chiuderlo prima spiega spiega un attimo queste due variabili tutto il fuso orario la prima variabile è meno 1 perché è la differenza che c'è tra l'ora del server e del broker che attualmente è un'ora in più con la nostra ora italiana siccome c'è un'ora in meno noi mettiamo meno 1 in modo tale che poi gli orari che devono andare a impostare sono gli orari nostri in effetti Giuseppe ha impostato 17.10 perché lui legge come se fosse 18.10 meno 1 tutto qua quell'ultima variabile giù in basso chiudi tutto a fine sessione che cosa significa? se la impostiamo a true a fine della sessione operativa quindi in questo caso alle 21 tutti gli ordini presenti sull'expert cioè che ha aperto l'expert verranno chiusi perché è finita la sessione gli abbiamo detto chiudi tutto a fine sessione se mettiamo a false invece gli ordini verranno gestiti da stop loss e tech profit eventualmente impostati ma chiaramente poi sarà a cura vostra gestire le operazioni se invece volete farli chiudere a lui mettete true chiudi tutto a fine sessione e li chiuderà a lui questo è un po' io ho impostato l'orario vado a impostare anche la massima esposizione netta come ho detto prima a 0.15 quindi una leva massimo a 3 poi margin break quindi l'abbiamo visto 0.2 non abbiamo visto ancora i lotti ma è molto semplice quindi ve lo spiego adesso è la sites iniziale quindi ogni operazione verrà aperta in questo caso da 0.05 e quindi mi aprirà massimo 6 ordini 6 ordini che possono essere non lo so 3 buy 3 sell 4 si si assolutamente può capitare 4 no no può capitare mettete in conto che vi può aprire 3 buy e 3 sell in questo caso facciamo un esempio matematico molto semplice quindi per semplificare per semplificare esatto per rapporto a TR quindi ve lo spiego tra poco però lo imposto per far partire l'expert perché ho messo 17.10 e manca un minuto rapporto a TR io adesso lo lascio così di default poi il resto penso che sia giusto ah no no non voglio sto training stop che poi mi parte il training stop forse vuoi attivare l'expert si evidentemente prima di stand by evidentemente questo perché mi hai dato un nuovo e non ho fatto qui ok bene adesso la faccina sorride giuseppe scusa vai un attimo nelle impostazioni metti pure permetti impostazioni in DLL scusa no ma adesso ride quindi c'è no non vorrei che vai in ULIT vabbè proseguo dove qua si quello deve essere sempre sfondato leggo ok ok vediamo se l'expert parte si ti leggo Massimo quindi perché mi ha scritto in chat allora continuiamo con la spiegazione delle variabili quindi il rapporto a TR che cosa fa vediamo se entra un ordine così magari ve lo spiego allora il rapporto a TR in sostanza se è attivata questa gestione posizione il rapporto a TR esclude l'altra che è stop loss take profit quindi la gestione posizione ha due modalità di gestione del rischio stop loss o take profit o rapporto a TR lo stop loss take profit se impostate questi valori dovete andare poi a inserire manualmente gli stop loss e i take profit che volete ad esempio volete uno stop loss di 100 mettete uno stop loss di 100 volete un take profit di 200 pips scrivete 200 se invece volete far fare tutto all'expert e quindi avere una misurazione reale del mercato c'è la misurazione appunto con la TR quindi dovete andare sul rapporto a TR e selezionare e inserire il periodo che io ho 1440 periodi perché sul grafico a minuti a un minuto il 1440 periodi corrisponde a una statistica giornaliera quindi se volete una volatilità giornaliera dovete inserire 1440 periodi se poi volete un ATR a 100 periodi potete scrivere 100 nessuno ve lo vieta comunque io lo utilizzo su 1440 periodi poi c'è il moltiplicatore ATR stop loss e take profit se inserite il 10 e il 20 come in questo caso andate a moltiplicare il valore dell'ATR per il valore che avete inserito quindi qui dove c'è scritto ATR stop loss 10 andate a moltiplicare questo valore che vedete sull'ATR di 1.6 quindi dove c'è scritto 0.0016 lo moltiplicate per 10 quindi lo stop loss sarà di circa 16 pips perché 1.6 per 10 appunto mi dà 10 pips e il take profit invece viene moltiplicato per per 2 per 2 quindi avrete un un take profit di circa 32 pips più o meno vi voglio dare solo giusto un'informazione di massimo forse magari vi do la notizia quando questo vale per tutti gli expert perché proprio di piattaforma di default quando state con questa finestra aperta quindi state settando le varie esterne oppure quando arriveranno delle domandine perché poi facciamo vedere quando l'expert chiederà delle cose l'expert non sta girando quindi prima settate tutte le varie abbie poi gli date l'ok e quindi l'expert inizia a ragionare ma quando voi programmate state facendo questo anche se dovesse scattare un segnale operativo come adesso in questo caso che sta l'RSI sta andando sopra la zona di 70 siccome avete la finestra aperta lui non ragiona vi piazza le linee ma non ragiona comunque daglielo ok Giuseppe se no non gira oppure l'annulla ok ecco quella linea azzurla che vedete che ha creato lì partirà l'ordine buy lì è la nostra buy stop spiegare le altre variabili spiegate su un altro devo cambiare il numero il magic lì oppure lo posso mettere tipo qui continuano a spiegare perché questa è una cosa che ha sempre dato problema adesso è entrato l'expert adesso è entrato buy quindi ha piazzato io perché sto seguendo l'ATR ha piazzato uno stop basato sull'ATR quindi l'ha moltiplicato questo valore per 10 quindi abbiamo vedete uno stop di 16 e un take profit di 32 poi ovviamente voi potete scegliere che tipo di rapporto volete a me piace lavorare con un rapporto di rischio di 1 a 2 e quindi di solito utilizzo questo sistema ma potete anche usare uno stop più largo e più stretto cioè nessuno me lo vieta quindi adesso la posizione è entrata e l'expert gestirà il tutto vediamo se posso spiegarvi il resto delle variabili con le slide penso di sì perché il grosso l'abbiamo spiegato vi ho spiegato anche la gestione delle variabili gli orari sono questi gli orari ragazzi gli orari vi sono chiari si Hermes la registrazione c'è Massimo sì assolutamente Skype o contatto telefonico non c'è problema allora vi ho spiegato anche il rapporto ATR e stop loss dobbiamo spiegare il profitto e perdita di giornata allora il periodo ATR quindi è chiaro credo che sia chiaro guardatemi se non lo è ditemolo in chat così magari ve lo rispiego allora il profitto giornaliero sì il profitto giornaliero chiaramente è sulla nuova dal discorso di prima dell'ATR e dello stop loss perché quelli sono stop loss e take profit settati in macchina ok abbiamo le due possibilità sia con l'ATR sia con gli stop che vado a mettere io manualmente il profitto e la perdita giornaliero posso anche ragionare in cosiddetti soldoni dicendo all'expert che cosa nel momento in cui tu mi raggiungi durante la giornata lavorativa cioè durante oggi un profitto impostato che ne so faccio per dire 100 euro tra le operazioni chiuse e le operazioni aperte mettimi in stand by per me il lavoro è finito della giornata stesso discorso vale per la perdita nel momento in cui raggiungo il valore impostato che ne so per la famosa 100 euro che perdo per me mettimi in stand by l'expert e se ne parla domani quindi potete farlo ragionare anche i soldoni impostando quello che è per farvi capire dove è qui attiva gestione profitto perdita questo true tanto con 0.05 non ci arriva a 100 almeno in quest'ora quindi quindi fate molta attenzione perché se su true emettete dei valori poi l'expert ragiona in soldoni quindi 100 giusto è 100 su 100 euro eh sì ok quindi perdita complessiva 100 ok l'ultima cosa da spiegare per quando riguardano le variabili è il training stop RSI sì allora andiamo a vedere un attimo sul grafico adesso tu l'hai impostato a false quindi non sta ragionando il training stop non è in esecuzione perché è impostato a false ma se noi impostiamo a true togli un attimo le variabili esterne è un training stop non è un classico training stop in pip per cui andate a settare quanti pip lo step e di quanti pip dovete alzare lo stop loss è un training stop che ragiona sempre sulla base dell'indicatore RSI sempre sull'RSI che succede che come in questo caso vedete lui avrebbe impostato già un training stop sulla prima operazione che è partita sulla prima buy che è partita perché che ha fatto l'indicatore vai dove è scattato il segnale Giuseppe ecco lì no prima prima il segnale la candela di prima ha dato l'input vedete la candela di prima quella verde sì questa qui è stato il segnale in apertura della successiva candela ha piazzato la linea di buy stop chiamiamola così dopodiché raggiunta la quale è entrato l'ordine l'indicatore nel frattempo non è andato nella zona 30 ma si è fermato in una zona neutrale e ha riconquistato successivamente il punto di 70 dove infatti è rientrato un'altra volta long perché è andato un altro segnale long fondamentalmente il trend è appena partito per farvela breve facciamo adesso l'esempio visto che comunque sta partendo come ragiona io adesso lo faccio manualmente metterei in passo l'expert quindi lui giusto mette tutto a brecchive e poi gestisce giusto? esatto oddio il trading stop metterebbe lo stop loss inizialmente sotto il minimo lì sotto il minimo perché magari appunto per avere uno stop più basso perché nel ragionamento qual è? siccome è partito già il trend non ha senso andare ad avere uno stop così largo perché comunque già c'è stata l'esplosione di volatilità vi devo far vedere un esempio perché ieri l'abbiamo spiegato bene vediamo qua oggi era comunque anche una bella giornata allora se l'expert entra in questa zona 16 e 43 vedete mettiamo il caso che entra così e c'è la modalità trading stop attiva siccome già è partito esploso il prezzo non ha senso mettere lasciare uno stop loss a casa di 40 pips sotto perché comunque sostanzialmente la direzionalità è già partita quindi l'expert che cosa fa? va a seguire il prezzo con gli swing dell'RSI che sono questi giusto Salvatore se dico stronzate tu allora scusami si ok ok quindi segue sostanzialmente l'expert segue il prezzo in questo modo quindi va a posizionare uno stop profit qui poi un altro qui poi un altro qui e poi qui potete qui magari è già arrivato a target quindi uscite oppure se siete comunque un po' sfigati vi viene a beccare però qui comunque la posizione sarebbe stata diciamo coperta questo serve soprattutto quando come ho detto quando parte è la direzionalità e quando per evitare magari quegli spike improvvisi dove magari il prezzo vi è andato su di 20 pips però poi arriva una una notizia o una qualsiasi altra cosa che magari vi fa andare il prezzo giù e vi va a prendere lo stop quindi con il stop queste cose sono inevitabili ogni volta che praticamente l'RSI mi dà un nuovo punto di ingresso comunque mi dà una zona di ipercombrato io mi vado a cercare uno swing diciamo precedente minimo dove piazzarmi il mio stop post in modo da cercare di catturare il trend nella sua indrezza chiaramente non abbiamo questa presunzione di prenderlo tutto il movimento ma se favo un movimento di 30 pippe io non sono riuscito a prenderne 20 quindi non mi posso ritenere altamente soddisfatto però a me come modalità l'ho detto anche ieri non mi fa impazzire perché perché siccome questo expert deve girare su Londra e New York ma questo poi è un discorso che vale particolare per me che sono davanti comunque a PC se devo lavorare soltanto un'oretta il lavoro sporco comunque già lo fa l'expert cioè vedete qui l'expert è entrato al mercato io che cosa devo fare cioè se vedo che è già partito senza alcuno stress mi porto le posizioni a break even quindi non perdo più e vado a diciamo a mettere in stand by l'expert e a cercare di catturare tutto il movimento fino al take profit cioè quindi il mio impiego su questo expert la mia diciamo attività discrezionale è stata di due secondi cioè accorgermi che l'expert stava guadagnando e mettere tutto a break even a me piace particolarmente usarlo in questo modo perché adesso tu tu l'hai messo a break even io adesso no volevo dire tu l'hai messo a break even posizionando appunto un'expert in stand by se vogliamo un attimo spiegare questi questi bottoni che sono diciamo i bottoni che cosa appunto lo stand by serve per mettere appunto come dice la parola in stand by l'expert quindi non apre più posizioni avete visto che io ho messo a break even tutto però prima ho messo in stand by l'expert quindi ho cliccato su stand by e c'era scritto vuoi mettere in stand by l'expert io ho posizionato ovviamente il pulsante il cursore sul si qui se schiaccio si mi riparte l'expert quindi l'expert ve ne accorgete perché quando quando lo mettete in stand by ho messo questo oggetto sopra in alto questo scheletro questo scheletro identifica che l'expert è in stand by adesso non ragiona più lui perché eventualmente siete voi a farlo a farlo ragionare ma in questo caso è stato esatto a me si potrebbe anche andarmene andare a fare un giro cioè nel senso che comunque il grosso è stato fatto o va a take profit oppure non perdete nulla cioè quindi queste sono le situazioni migliori adesso vedete come sta facendo lo swing sull'RSI quindi se regge questo swing e si va a fare nuovi massimi magari si può avere un'esplosione su queste strutture qui dove ci sono magari questo è il caso specifico che volevo chiarire del training stop se adesso l'RSI di conquista la zona dei 70 a me piazzerebbe il training stop uno stop loss esattamente là sopra esatto e questo è il training stop è eccezionale quando si verifino queste situazioni perché fa tutto lui cioè quindi va a proprio a posizionarsi qui sotto esattamente ecco bello che sta succedendo qui comunque sono quelle situazioni più sono su quelle situazioni migliori quindi dove veramente non fa tutto da solo il prezzo quindi come vedete qui ha fatto un nuovo swing sta testando i nuovi massimi qui se li rompe e magari ci fa anche la grazia di andare a rompere l'1.10 magari possiamo assistere a una bella rottura però vediamo per continuare il discorso dei pulsanti in parte il fatto che il pannello dei pulsanti lo potete spostare dove volete schiacciando su quel tasto blu e quando lo muovete vedete diventa giallo il pulsante rilasciate di nuovo dove volete posizionare il set dei bottoni e diventerebbe di nuovo blu rischiaccia un attimo Giuseppe ecco ok adesso spostalo dove vuoi ovviamente all'interno non lo mettete qui sotto perché sennò poi vi scompare cioè l'interno quella qui lo vuoi mettere anche lì sotto poi schiacciando F11 lo mettete a tutto schermo e andate a richiamare altrimenti poi dovete fare di nuovo dalle variabili esterne una reinizializzazione dell'expert per farlo riappare però lasciamo stare cioè tenetelo sempre comunque sulla parte alta non vi confondete per continuare sotto ci sono altri due pulsanti la direzione che secondo me è un'altra figata la direzione la direzione che cosa possiamo dire all'expert all'expert possiamo dire che tipo di direzione prendere cioè magari io mi accorgo che sto senza un trend log gli posso dire all'expert di non aprire assolutamente short ma farmi solo eventualmente segnali buy quindi cliccando sul long in questo caso prova a cliccare dicendogli sì vuoi aprire solo operazioni long sì mi apparirà questo oggetto solo in alto long l'expert adesso avrei stand by perché ce l'ho schietto ma se non ci fosse lo stand by aprirebbe solo disclusivamente posizioni long se voglio togliere l'oggetto rischiaccio sul bottone direzione perché l'oggetto direzione poi mi dà anche la possibilità di andare short quindi se rispondo no a questa prima domanda lui mi chiede vuoi andare long io dico no allora vuoi andare short se gli dico sì mi apparirà l'oggetto short se gli dico no allora è abilitato sia per i long che per gli short questo mi sembra abbastanza chiaro non è una cosa di poco conto perché diciamo queste logiche aiutano moltissimo il congetto del semi automatico dove l'expert fa delle cose voi operatori dettate la linea guida sono gli expert che funzionano meglio esatto se avete fatto un'analisi daily dove magari dite no per me deve solo salire ovviamente gli potete dire all'expert oggi mi devi fare solo le long io tipo ieri ho fatto l'esempio sul posizionamento retail perché a me piace lavorare molto andando a guardare i posizionamenti retail in questo periodo i retail sono short da circa 2-3 mesi su euro dollaro e quindi magari uno può decidere di lavorare soltanto in long perché sono quelle operazioni che sostanzialmente pagano di più in questo caso se avete fatto un'analisi potete comunque anche gestire poi il rischio in maniera diversa perché siccome potete gestire tutto comodamente dalle variabili se volete andare soltanto long perché siete convinti delle vostre analisi o perché volete comunque andare a trovare sul time frame superiore quindi andando a guardare magari un grafico daily che è impostato al rialzo potete poi sul grafico a un minuto lavorare con stop più larghi proprio perché la tendenza di fondo è comunque a vostro favore poi queste sono comunque scelte che sono appunto discrezionali quindi all'expert basta che iniziate queste cose che poi fa tutto in modo in modo molto egregio l'ultimo cosa di tutti chiusi tutto che io non lo faccio perché ieri mi ha chiuso le posizioni pure anche se in stand by quindi non so per quale motivo però dovrebbe farti la domanda se vuoi chiudere le posizioni questo chiudi tutto a differenza degli script chiude solo le operazioni dell'expert cioè chiuderà solo le sue operazioni quindi se avete un'operazione aperta da voi ma non il manuale o un altro expert chiaramente quella ve le lascia chiudi tutto sta a indicare appunto la chiusura delle operazioni aperte da se stesso ed è un utile impulsante che poi chiude tutto solo le operazioni dell'expert quindi se le operazioni indiscrezionali non me le chiude quelle esatto 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 io non lo faccio adesso perché voglio vedere se il maledetto come chiamo amichevolmente l'eurodollaro va a testare 1,10 quindi vediamo se ci va a 1,10 quindi non lo chiudiamo abbiamo spiegato tutto credo è incredibile che ci sono delle domande Marco il testo significa che è in stand by quindi l'expert non sta più lavorando quindi lo attivi dalla modalità stand by le agire con il pc spendo no no come tutti gli expert non non è possibile farlo girare con la metatria del spender adietro ok quindi se volete provare l'expert senza rischiare nulla per chi non è cliente TIC1000 può aprirsi un conto di benvenuto da 30 dollari quindi dovete andare a inserire soltanto queste informazioni come nome e cognome e poi avete già il conto da 30 dollari poi leggetevi comunque i termini e condizioni che sono comunque disponibili sempre sul sito di www.ticmill.com quindi provate poi l'expert con 30 dollari ovviamente tenete conto che il margine è quello che è perché con 30 dollari potete lavorare siete comunque obbligati a lavorare con un micro lotto da 001 quindi le impostazioni che poi sono quelle che comunichiamo anche in chat devono essere su appunto 001 e su come massima esposizione 0.03 non lo caricate troppo perché altrimenti poi fate la fine e vi faccio vedere un po' di conti perché noi abbiamo la pagina di mefxbook ecco sì allora vi faccio vedere una cosa perché è importante intanto comunque tenete conto che io lo faccio lavorare adesso perché un po' anche siamo agli inizi e tutto quindi ci vado piano con la leva quindi come avete visto io ho una leva molto bassa perché su myfxbook il dato che dovete sempre guardare con attenzione è il rischio rovina vedete io per bruciare questo conto con con queste impostazioni che ho attualmente dovrei prendere una serie negativa di 298 trades quindi 298 operazioni consecutive per bruciare questo conto con i ragazzi quando abbiamo provato con i vari conti di benvenuto per trovare l'expert ovviamente c'è chi come Matteo non so se è in chat ha quattroplicato il conto ma il rischio rovina di Matteo adesso è alto a 50 ma prima il suo rischio rovina era sulle 30 operazioni perché ovviamente non c'è margine su un conto da 30 dollari cioè purtroppo ovviamente chi ha approvato il conto da 30 dollari con l'expert l'ha bruciato proprio perché ci sono state delle gestioni in alcuni casi vediamo forse era questo di Paolo no c'era un conto dove venivano aperte operazioni da 005 su un conto da 30 dollari quindi è chiaro che così non è manco trading quello è per provare però per farvi capire infatti vedete questo conto lui era arrivato al 200% e poi è stato tutto bruciato dal sia perché magari si sono vissute delle situazioni non favorevili proprio anche perché non vi avevo spiegato l'expert voi avete visto adesso io come lavoro con l'expert quindi dovreste utilizzare questo tipo di approccio perché è un approccio che comunque sul lungo periodo funziona e poi ovviamente non abusare con la leva perché se vi andate a utilizzare una leva come in questi casi sul conto da 30 dollari di 002 magari farlo lavorare sia sulla sterlina sia sull'euro dollaro ovviamente non andate da nessuna parte quindi dovete fare molta attenzione proprio perché è guardare sempre il vostro rischio rovina se siete superiori ai 200 e le 300 operazioni è stata andando bene se siete inferiori dovete fare molta molta attenzione vediamo che cosa ci siamo dimenticati poi passiamo un attimo 5 minuti le domande il training stop il bottone ne abbiamo spiegati vedete io ho messo delle slide con gli esempi operativi che ho fatto poi abbiamo avuto la fortuna che sono capitati proprio in real time sia ieri che oggi quindi quando mi parte un trend vedete in questa situazione ve la vado a evidenziare io ho attivato l'expert qui che cosa ha fatto l'expert mi è entrato due volte buy vedete queste frecce blu poi tre volte in short mi è andato a prendere gli stop in buy quindi che cosa ho fatto ho fatto lavorare solo le sell quindi ho messo tutto a break even quindi stoppandolo lea questa tra l'altro era una versione precedente e quindi poi ho fatto lavorare l'expert fino a take profit quindi dovete approcciarmi in questo modo quindi è vero sì che è un expert però siccome appunto dovete andare a beccare la direzionalità in un'ora o un'ora e mezza se siete davanti al monitor mettetevi lì vicino quando vedete queste situazioni magari gestitene in questo modo perché sono appunto le situazioni più favorevoli e sul lungo periodo comunque pagano stessa cosa sull'altro esempio vediamo vedete qui stessa cosa l'expert mi ha fatto due sell farlocche perché sono andato in stop poi mi è andato a caricare le buy ed è partito in long e io qui ho gestito ho gestito tutto in breakeven si Marco poi lo rispiego quindi quando entrate vedete qui se è partito un trend è inutile stare a cercare qui altre soluzioni mettete tutto in stop in lea e fatelo lavorare perché se parte la direzionalità sono comunque cose a voi favorevoli l'ultima vediamo se c'è un'altra slide non mi ricordo quando erano messe non mi pare di no queste sono le situazioni eccezionali veramente io le chiamo le situazioni banco Matt perché un paio di volte al mese queste cose succedono quindi queste situazioni sono veramente interessanti allora vedete ora di Londra 10 perché il broker è un'ora avanti magari che ne so siete in ufficio non avete tempo avete altre cose da gestire quindi l'expert entra per voi quindi fa due buy in questo caso che sono state farlock e poi due sell date uno sguardo all'expert lo vedete che si trova in questa situazione lo mettete immediatamente a brecchino e quindi spostrate tutto in stop in pari in questa zona qui e lo lasciate correre e se siete fortunati come in questi casi parte una forte direzionalità che vi va a compensare ampiamente le due perdite sui long e vi fa comunque chiudere anche la giornata in game se ritorni in attiva sull'expert Giuseppe non è che sei uscito in break even no sei ancora dentro io non lo sto guardando ah cos'è oh non riesci a rompere dai dai è venerdì però di venerdì succedono queste cose quando magari appunto inizia a mancare la volatilità magari una spike sopra 1,10 la fa vediamo comunque queste sono le situazioni ideali perché io comunque Marco ti rispondo alla domanda ho messo tutto a break even proprio perché ho visto che il prezzo stava andando nella mia direzione devi solo spostare manualmente il prezzo no ti volevo segnalare proprio dove sei adesso fai vedere anche al di là di adesso che adesso sei in stand by l'expert fai vedere guarda lì ha generato un segnale short ma che comunque non sarebbe entrato vai a vederlo ecco lì no no primo ecco lì questo qui sì esatto qui non non sarebbe entrato proprio perché con immagini esatto ma qui non c'era non c'era il margine quindi è andato anche se non sembra esatto vediamoci abbiamo detto tutto allora i contatti per quanto riguarda TICMIL scrivetemi giuseppe chioccelaticmil.co.uk per working forex vi risponde Salvatore info chioccelaworkingforex.it quindi per chi poi fosse interessato a provare l'expert scaricatevi il conto di benvenuto e poi Salvatore vi gira l'expert via email iscrivetemi anche alla chat di Telegram ve la giro in chat Elisa cosa vuol dire break even? allora il break even è uno stop a pareggio cioè significa che tu non puoi più perdere quindi vedi io ho inserito come in questo caso beh si è andato anche oltre il break even io sì perché ovviamente siccome ci sono anche le commissioni dategli mettetelo un qualcosa in più in più 0,2 pips in più no perché con TICMIL queste cose si possono fare perché vedete che la forchetta sped è lì quindi se già ci fosse stato un altro broker con 0,8 o 0,9 io vedo anche a volte 1,4 cioè questo tipo di operatività non si può fare quindi dovete spostarvi necessariamente su su grafici più comunque più lunghi quindi sul daily proprio perché sul grafico a minuto in questo modo non si può lavorare se avete degli spread intradabili quindi con broker del calibro di TICMIL potete comunque tranquillamente farlo e quindi mettere tutte le posizioni a pareggio vediamo se fa in diretta 3 pips per il 10 vediamo ci sta provando ma perché dovrebbe farlo non aspettavo detto forse per venerdì ce la fa ragazzi a volte capita che fa anche 1,0,9 e poi pro vediamo comunque oggi potevo guadagnare più di ieri vedi vedi io non rischio mai troppo sono troppo conservativo no io solo un appunto voglio fare ieri pure hai fatto molta tettubanza e guadagnato oggi stai guadagnando mi pare carini ho pagato la pizza e il caffè esatto ragazzi anche voi se venite a Rimini il 18 il 19 maggio ci sarà anche saremo allo stand TICMIL Salvatore mi ha detto ieri hai confermato che venivi quindi sareste venuto quindi ci trovate per chi ha il piacere di passare per Rimini il 18 il 19 maggio allo stand per parlare di training Elisa l'ho spiegato il brecchino e magari e quindi è uno stop a pareggio in pratica non perdi più porti il tuo profitto leggermente sopra il tuo prezzo di ingresso quindi è lo spostamento nello stop loss sono entrato a 1.09.85 e ho spostato il brecchino a 1.09.85.1 quindi non perdo più cioè sostanzialmente io adesso siamo in quelle situazioni di goduria per il trader perché proprio il trader posso lo guadagnare allora ci siamo detti tutto se avete altre domande fatela adesso o mai più la registrazione tu Salvatore mi confermi che comunque c'è no? allora in questo momento io leggo in fase di registrazione il tasto arresta registrazione quindi presumo che stia deve partire questa benedetta registrazione è incredibile ha sfiorato come ho detto 1.0 1.0 la sei chiamata la sei proprio chiamata la sei chiamata la sei chiamata per farvi vedere come ha sfiorato e lì credo che potrebbe partire una buona accelerazione no ma su 1.10 se lo rompe mi aspetto uno spike o qualcosa per andare a spazzolare un po' di stop dall'osso che c'è non ne so però può fare quello che è buona alla fine quello che è importante è il concetto di tranquillità tu adesso sei sereno e tranquillo perché ti è scostato dal stop non è di che cosa preoccuparti sicuramente fa incazzare il fatto se adesso dovesse andare a prendere il stop e poi risalire su però fa parte del gioco meglio comunque sicuramente meglio di uno stop loss quindi comunque l'expert ha fatto il lavoro per me nel senso mi ha fatto entrare io non ho dovuto andare a stressare a cercare il setup operativo molti in chat sempre mi chiedono dove devo entrare no la cosa più importante poi è gestire praticamente l'entrata gliela fate fare all'expert poi vedete queste situazioni sono talmente tranquille che non vi portano comunque uno stress emotivo perché poi sul lungo periodo comunque vi può anche logorare perché se dovete pensare all'entrata dovete pensare alla gestione dovete pensare alle sites e quant'altro comunque sul lungo periodo questo può essere lavorato quindi per questo servono strumenti validi vi dico ragazzi che uno strumento del genere trovarlo gratuito è praticamente impossibile io sono dal mercato del 2008 tu salvatore più di me però questo expert un expert del genere darlo gratuito non si trova lo fanno pagare anche sulle 500 euro il discorso anche poco il discorso è proprio questo volevo trasferirvi questo congetto chiaramente io lo rendo gratuito e mi metto a disposizione per chi lo vuole utilizzare e chi lo deve utilizzare cioè è chiaro lo provate lo testate sul punto di benvenuto va bene tutto però poi è chiaro che io vorrei parlare con chi tratta con chi fa operazioni tutti i giorni l'unico modo per poterci diciamo così per poter stare dentro la mia richiesta è di lavorare con il broker con cui ho una collaborazione tra l'altro vi sto proponendo un broker che è uno dei migliori e presente oggi sul mercato non fosse altro solo per l'aspetto commissionale attraverso me potreste beneficiare anche dello sconto anzi beneficireste dello sconto del 5% sulle commissioni questo significa veramente nulla in giro non c'è altro altro broker ma magari se lo fai vedere ecco sulla pagina di MyFxbook se vedete su MyFxbook che non è un sito esterno vedete come Tickmill con le commissioni incluse le commissioni ha le condizioni migliori soprattutto su euro dollaro rispetto ai competitors quindi vedete come quasi sempre ha le caselle verdi nella maggior parte del tempo Tickmill quindi è in gru le commissioni quello però perché senza commissioni siamo a 0,1 poi le commissioni che comunque contano anche vedete come certo che contano però siamo a 0,58 quindi potete lavorare andando anche a controllare appunto i costi che è fondamentale sul training soprattutto ripeto per la mesina volta sullo scalping quindi lavorare si con gli strumenti validi ma anche con con un broker serio perché come ho detto anche ieri potete essere un bravissimo pilota però se non avete un team alle spalle che vi fa il lavoro per voi non andate da nessuna parte quindi bisogna anche lavorare con un broker serio quindi con Salvatore se non sbaglio con te il 5% di sconto ulteriore commissionale mi raccomando Salvatore ve lo dà gratis l'expert però ovviamente se non fate trading non vi rinnova la licenza perché altrimenti non avrebbe senso perché se voi utilizzate l'expert è perché dovete appunto farci il trading se non lo utilizzate non ha senso comunque rinnovarvi la licenza guarda Giuseppe non è nemmeno cattiveria per intenderci voi immaginate che io do l'expert a 100 persone ok di queste 100 persone 50 tradano e 50 no se mi arrivano le richieste da parte di quei 50 che non tradano mancherei di rispetto a chi invece fa negozioni e chi veramente lo utilizza per il suo tempo ovviamente guadagni dalle commissioni è anche giusto dirlo proprio perché nessuno comunque lavora gratis se stai dando uno strumento comunque valido però è anche giusto che ci sia un rapporto reciproco non hai messo delle condizioni particolari proprio perché vedete alcune volte vi danno il servizio devi entrare verso 500 euro oppure devi fare un tot di lotta al mese no non ci sono questi vingoli però deve essere un rapporto tra persone adulte e serie dove appunto voi usufruite comunque di uno strumento valido e permettete comunque a Salvatore di darvi degli strumenti appunto validi di lavorare ad altri progetti perché questo non è l'unico exit ma questo non è appunto poi anche in chat ci sono diversi diversi indicatori che utilizziamo tutti i giorni quindi vediamo se vi posso iscrivere in chat allora la chat di telegram già l'ho fatto no se avete il piacere di unirvi alla chat poi tenete conto che cercheremo anche di fare adesso io sono un po' impegnato con Rimini ma se non è la prossima settimana dopo Rimini sicuramente faremo anche più training live ogni giorno quindi insieme poi andremo a capire bene l'expert allora io adesso direi di stoppare la registrazione sì vediamo un po' se ci sono delle domande domande attinenti alla proprio all'expert ho perso le domande tu Salvatore vedi le domande per caso perché io non le ho sì un attimo mi diceva Giordano lui ha già un conto con TICMIL come puoi inserire il codice di Salvatore questo dovevo verificarlo un po' ma manda un'email al supporto di TICMIL e chiedi se puoi aprire comunque il conto o se no fai una cosa molto più semplice dalla tua area clienti quindi da qui se fai prima ad aprire un nuovo conto no sì dall'area clienti una volta che sei entrato qui nell'area clienti poi andarti a gestire direttamente il conto non devi inserire nuovi documenti devi solo aprire un nuovo conto di training e inserire il codice di Salvatore che trovi sul link di Working Borex questo qui che lo scrivo anche in chat ok io arresto la registrazione quindi è un momento molto importante e delicato grazie a tutti per aver visto questo webinar e vi auguro come sempre buon trading buona sera da tutti grazie a tutti grazie a tutti